20 anni quando non è stato per niente coltivato, era seminario, vedi che bel territorio si sta creando, questa è la pianta madre del pero, tu devi rispettare la natura, a di là anche se tu hai le cani, devi rispettarla, e anche fra uomo e uomo bisogna rispettarla. Grazie a tutti. La pietra è la coscienza primordiale che si è stratificata nei fondali del mare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.